Oggi pomeriggio a Reggio Calabria è un'importante manifestazione di bodybuilding, atleti da tutta il sud Italia per questo evento che poi potrebbe portare alle finali di Mr. Olimpia. È una gara nazionale e internazionale, significa aperta a tutti gli atleti del bodybuilding, di cui questa gira IFBB Pro League è l'unica che ha gli sbocchi internazionali al Mr. Olimpia. Superando questa fase possono accedere agli italiani, si svolgeranno il 21-22 luglio a Sanremo, di cui avranno una pro card i loro vincitori, di questi italiani, per accedere al professionismo. Quanti atleti sono previsti per oggi pomeriggio? Io sono molto lusingato di questo evento, anche perché mi ha dato la possibilità di portare circa 70-80 atleti in questa città, atleti provenienti da tutte le regioni, sono atleti di alta qualità, significa che sono tecnicamente preparati, quindi credo che i giudici avranno molto lavoro da svolgere. Da dove vieni tu? Da Spagna, spagnolo. Che cosa pensi di questa manifestazione? È una manifestazione incredibile, molto importante nel mondo del fisiculturismo e avremo una grande competizione. Grazie. È la prima volta che vieni in Italia? No, è la prima volta che vengo qui a Carreggio. No, è la prima volta che vieni in Italia.